musica ehi la ragazzi sono sempre io il coso tcore 25 ed eccoci qui per un noesimo video e un altro video di Terraria Wiki i mostri che continuano ad importunarmi come sempre sono qui per illustrarvi alcuni oggetti che stavano nel mondo di Terraria che potrebbero volere di spiegazione non credo perché comunque sono pochi gli oggetti e si intuisce l'utilità già guardando la descrizione però eccoci qui oggi vi spiego lo specchio magico questo specchio che si può trovare in chest molto raramente io ho avuto la fortuna incredibile di trovarlo scusate se ho toccato il microfono comunque adesso ve ne vado a spiegare l'utilità per spiegarvi l'utilità devo andare lontano veramente lontano dal mondo tipo questo specchio è molto utile nel caso voi vi troviate dispersi nel mondo o nelle caverne avete l'inventario pieno non sapete come tornare a casa e cosa si vuole una magari se in se in come si dice nella modalità semplice potrebbe lasciarsi suicidare automaticamente e morire allora dice beh mi lascio morire perdo solo qualche soldo però questo a me risultava molto fastidioso perché anch'io mi lasciavo morire e dicevo vabbè mi lascio uccidere poi torno a casa e deposito tutto per perdere solo 2-3 soldi lo faccio ma la cosa non è molto bella e come soluzione a codesto problema dilemma viene a formarsi da noi lo specchio se lo troviamo noi attualmente siamo qua c'è il nostro spawn e noi siamo qua siamo abbastanza lontani non ancora tanto però comunque non conta la distanza uccidiamo questi qua ci dovrò fare un video su questo bioma perché è l'opposto della corruzione quindi ragazzi se noi ci troviamo qua stiamo minando abbiamo l'inventario pieno e diciamo cavolo come torno a casa niente problema prendiamo lo specchio magico clicchiamo con il tasto sinistro e ci trasporta lo spawn che io non ho settato in questo mondo quindi in poche parole l'utilità dello specchio magico è semplice non so se avete mai visto quelle pozioni che si chiama teleport home quelle azzurre quelle lì ti teleportavano a casa ma sono molto rare da trovare e da craftare ancora meno non so quanto siano rare perché sinceramente non l'ho mai fatta quindi un'utilità semplice potrebbe essere quella dello specchio magico voi cliccate col destro e adesso lo riproviamo anche da lontano da sopra là e ci trasporta lo spawn quindi molto utile quindi niente questo video sarà magari un po' più breve ma ho usato impropriamente ma spero che vi sia utile lo stesso perché lo specchio magico è veramente raro e se lo trovate potete essere veramente entusiasti perché è veramente fantastico un bel oggetto comunque ragazzi da Dicora25 è veramente tutto per questo ennesimo episodio di Terraria Week in cui vi ho spiegato l'utilità dell'oggetto in questione cioè lo specchio magico e spero che vi sia utile magari qualcuno di voi non sapeva l'utilità dello specchio magico ma dubito perché comunque lo dice la descrizione comunque ora sapete cosa vi serve lo specchio magico da Dicora25 è veramente tutto lasciate un commento un bel like iscrivetevi al canale qualora non lo foste condividete il video per far conoscere o i miei video o l'utilità di questo oggetto in questione e andatevi a vedere gli altri episodi di Terraria Week che comunque spiegano oggetti magari un po' più complicati di questo quindi è veramente tutto grazie per aver visto questo video e good luck ragazzi ciao ciao ciao